allora ragazzi ci siamo cinque ore e mezzo e siamo a Cagliari Lecce ieri questa poteva essere una bella partita tranquilla anche al Cagliari poteva andare bene il pareggio se voi ci pensate anche al Cagliari con tutti gli scontri diretti che hanno Frosinone, Empoli e Udinese al Cagliari andava benissimo il pareggio ora che è successo che ieri il Sassuolo ha spalsato tutto tutto capovolto cioè il Sassuolo una squadraccia ieri ha messo sotto l'Inter un Inter davvero inguardabile sono rimasto fino alle 10 e mezzo a casa per guardarmi la partita signori me ne potevo uscire alle 8 tranquillamente andiamo a giocare contro un Cagliari che ora non solo il Cagliari ragazzi chi ha vinto il Sassuolo ieri? le altre squadre che già era davvero difficile incontrarle no? e parliamo sempre di Udinese, Empoli e Frosinone daranno ancora di più, ancora di più oggi le partite sono fatte di stimoli di stimoli no? abbiamo visto ieri il Sassuolo e Inter sono fatte di stimoli allora andare ad incontrare queste squadre per tutte le altre squadre sarà un casino Cagliari-Leccia Cagliari-Leccia oggi sarà una battaglia proprio per quello perché oggi il Cagliari si vede il Sassuolo a tre punti e mancano ancora, cioè dopo di questo mancheranno tre partite capite? già è difficile giocare a Cagliari diciamo no? per una squadra come il Lecce e il Cagliari avete visto no? in casa che cosa fa il Cagliari ha battuto l'Atalanta in casa stiamo parlando di ora eh? un mese fa ha imposto l'1-1 o il 2-2 al 2-2 alla Juve e ricordiamoci che la Juve ha pareggiato col Cagliari solo grazie a una furbizia no? del solito chiesa che si riprocura quella punizione al limite dell'aria e poi Vlauvi ci segna la punizione altrimenti avrebbe battuto pure la Juventus è andata a Milano, ha pareggiato 2-2 con l'Inter e se Viola con il colpo di testa all'ultima azione invece di metterla centrale e la mette, diciamo no? era anche facile no? e invece l'ha messa proprio sulle mani di Sommer la angola poco poco, vince a Milano capite ragazzi? cioè il Cagliari oggi è una squadra pericolosa e noi ci troviamo a giocare contro una squadra pericolosa che ci metterà ancora di più e ci metterà ancora più garra proprio per il risultato del Sassuolo ieri è un poco difficile da raccontare e da spiegare soprattutto alle 7 di mattina ma cercate di capirmi e niente ragazzi oggi poi ecco questi orari qua io le 12 e mezzo giuro ma quante partite ha fatto il Lecce le 12 e mezzo quest'anno? cioè praticamente il Lecce è la squadra che ha giocato più volte le 12 e mezzo non lo so non lo so, è così? il Lecce avrà giocato 7-8 volte alle 12 e mezzo ma se io non mi posso mangiare la pasta al forno e guardarmi il Lecce non mi gusto né la pasta al forno né la partita del Lecce aspetta e poi la partita con l'Udinese di lunedì no vabbè ragazzi io davvero non sono orari che proprio non c'entrano niente con il calcio il calcio era così bello prima quando alle 3 giocavano tutte e te ne andavi in giro con le famiglie con la ragazza con gli amici oggi queste partite ti distruggono soprattutto queste alle 12 e mezzo comunque ragazzi ci vediamo alle 24-2 e mezzo e speriamo di iniziare con una bella canzone di Vasco Rossi ciao Stray ciao Stray